Una mattinata ricca di tensioni in casa Chieti. Doveva essere la giornata della presentazione del nuovo organigramma Nero Verde con il direttore generale Riccardo Canuti e il neo DS Massimo Mutali Passi che affiancavano il patron Giorgio Pomponi, ma l'irruzione degli ultra del Chieti ha mandato in frantumi i programmi dell'imprenditore romano che, a blitz concluso, visibilmente provato, ha preferito abbandonare una conferenza che lo stesso Pomponi aveva introdotto dicendo la sua sulla vicenda che a Chieti negli ultimi tempi ha fatto discutere. La nuova accordata che ha acquisito il titolo della Torre Alex in promozione chiedendo di giocare all'Angelini. Una vicenda così spiegata da Pomponi. Praticamente noi siamo stati contattati da due politici che vi rappresentano qui del PD di Chieti, il quale abbiamo contato io e l'avvocato Canuti. Questi signori inizialmente erano tanti programmi, anche perché poi non ho visto nessuno questa famosa accordata di rappresentanti, ma bensì hanno mandato questi loro due commissari. Noi abbiamo chiesto una cosa, loro avevano detto più soluzioni. Io all'unica cosa ho detto facciamo una bella cosa, i soldi inulitate alla Chieti Caccio, facciamo che i soldi vostri che voi fate, i 20 ipotetici imprenditori che voi siete, li mettete sulla Lega Pro, per il pescaggio della Lega Pro. A me mi ha più chiamato nessuno. Appena abbiamo captato io e l'avvocato Canuti, nonché il direttore di Chieti, che era soltanto per me e la mia modesto parere insieme a Riccardo, il fatto che potessimo diventare la succursale del pescaggio, no grazie. Per cui abbiamo rimandato l'offerta ma senza che noi ci abbiano chiamato, per cui è una risposta. Noi abbiamo dato tre opzioni, nessuna risposta. Subito dopo la parola è passata al DG Canuti, il cui discorso è stato interrotto dall'irruzione dei tifosi neroverdi. La tensione sale alle stelle con gli ultra che imputano alla dirigenza di aver fatto tante troppe chiacchiere in questi mesi, ma pochi fatti, quindi Pomponi abbandona la conferenza e si lascia scappare. Oggi è una brutta giornata, una giornata che imporrà una riflessione all'uomo che appena un anno fa aveva raccolto l'eredità di Walter Bellia.